Non mi vuoi parlare? No, è uno d'oro. Sono quelli che ti vogliono fare del male? Una volta quelli come te li ammazzavo. Come li ammazzavi? Con la lupare. Confusione mentale, reazione depressiva ansiosa, dissociazione del pensiero, uno schizzato. E noi dobbiamo dare retta a un folle. Tu parli, straparli di cose che non ti appartengono, di cose che tu non sai. Ma c'è il tuo nome. Ma come ti è venuto in mente di farne? Anna, io in carcere ho riflettuto tanto. Ti devi mettere in salvo. Tu comunque l'agente non c'entri niente. Tu ridi che non l'ho capito? Voi lo volete pazzo. E quelli lo stanno veramente facendo diventare pazzo. Questo detale entra e esce dagli ospedali psichiatrici. Un malato di mente non può avere verità per la legge. Hai detto cose ingiuste. Hai aiutato lo Stato a combattere la mafia. Ci hai fatto scoprire assassini. Hai smascherato uomini delle istituzioni. E fossero tutti come te i pazzi. Il mondo sarebbe migliore. Chi hai fatto scoprire og randi. E'でしょう? Chi hai fatto scoprire e dort paciente? Chi hai fatto scoprire знач sono tale 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 Matthew Campion. Chi hai fatto scoprire e ch elevato di promoteng